Perché non investire in buoni fruttiferi postali e perché le obbligazioni rappresentano una migliore forma di investimento rispetto proprio a questi ultimi. E nel video di oggi infatti capiremo cosa sono i buoni fruttiferi postali, soprattutto come funzionano e se rappresentano un'opportunità di investimento per i risparmiatori. Allora, ciao a tutti, come state? Bentornati nel mio ultimo video qua su YouTube. Io direi di iniziare immediatamente. Allora, se c'è una forma di investimento di cui gli italiani vanno letteralmente matti, sono proprio immobili e buoni fruttiferi postali. E nel video di oggi parlerò proprio di quest'ultimi. Anche mio nonno ripeteva spesso che il migliore investimento erano proprio i buoni fruttiferi. Tant'è che appena aveva due risparmi da parte correva subito a investirli nelle poste. Ma è veramente così? I buoni fruttiferi postali sono veramente degli ottimi prodotti? Beh, già dal titolo di questo video penso si possa già capire la mia opinione personale e che di fatto questi non sono ottimi prodotti. Però io non voglio che vi fidiate di me. Il mio intento è di farvi capire con spiegazioni semplici perché questi prodotti non sono affatto funzionali. Infatti, proprio sulla fiducia, molti sottoscrittori investono in questi strumenti finanziari dalla bassa qualità, per non dire scadenti. Partiamo ora innanzitutto dal capire chi rilascia appunto questi buoni fruttiferi postali. I buoni fruttiferi postali sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti e distribuiti sul territorio italiano da poste italiane. Cassa Depositi e Prestiti, potete anche sentirla chiamare CDP, è una società per azioni italiana. Quindi un SPA, però con la partecipazione interamente del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Cassa Depositi e Prestiti è stata costruita nel 1850 con lo scopo di finanziare lo sviluppo economico e sociale del paese. Le sue attività si articolano in tre principali macro aree. La prima, investimenti in infrastrutture. Cassa Depositi e Prestiti finanzia la realizzazione di infrastrutture strategiche per il paese, come ad esempio possono essere le strade, le ferrovie, i porti e gli aeroporti. Poi c'è un sostegno alle imprese, infatti fornisce alle imprese italiane, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, finanziamenti e i servizi per la crescita e l'internalizzazione. E poi c'è la gestione del risparmio postale. Cassa Depositi e Prestiti infatti gestisce il risparmio postale raccolto nei vari uffici delle poste. E qui infatti troviamo proprio i buoni fruttiferi postali. Infatti la Cassa Depositi e Prestiti utilizza proprio questi soldi per finanziare tutte queste belle attività che abbiamo visto prima. Ora andiamo a vedere cosa è effettivamente un buono fruttifero. Dopo andremo ad analizzarne uno proprio in particolare. I buoni fruttiferi postali sono dei titoli di debito a medio e lungo termine che offrono un rendimento fisso e predeterminato. Ecco come funzionano. C'è la fase di sottoscrizione. Puoi sottoscrivere i buoni fruttiferi presso qualsiasi sportello postale online. Al momento della sottoscrizione devi versare una somma di denaro che rappresenta appunto il tuo capitale investito. Questi strumenti hanno una durata variabile che può andare dai 3 ai 30 anni generalmente. Il rendimento è fisso e predeterminato e viene calcolato in base al tasso di interesse applicato al momento della sottoscrizione. Gli interessi appunto possono essere pagati annualmente o alla scadenza del buono. In genere sono pagati sempre la scadenza del buono. Rimborso. Al termine della durata del buono riceverai il rimborso del capitale investito maggiorato appunto con tutti gli interessi che avrai maturato nel corso degli anni. Quindi vediamo già da qui che il comportamento di un buono fruttifero è abbastanza simile a quello che è un'obbligazione. Dato appunto che ho citato adesso le obbligazioni ed è anche nel titolo di questo video, vediamo alcuni punti che ha in comune con questo strumento. Parliamo della tassazione. Infatti entrambe gli strumenti, le obbligazioni governative italiane e i buoni fruttiferi godono della stessa tassazione agevolata del 12,5% al posto del 26%. Quindi non c'è alcun risparmio fiscale investendo in uno o nell'altro strumento. Ora parliamo della sicurezza. Infatti i buoni fruttiferi postali sono garantiti da cassa depositi. Quindi lo Stato dà la sua garanzia nel pagamento del rimborso e nel pagamento degli interessi. Anche se, per qualche ragione, cassa depositi e prestiti dovesse fallire. Quindi possiamo dire che a meno che l'Italia non vada in default, i buoni fruttiferi postali sono strumenti sicuri su cui investire. Le obbligazioni invece? Beh, anche qui le obbligazioni italiane sono garantite dello Stato italiano. Quindi anche loro godono dello stesso grado di sicurezza dei buoni fruttiferi postali. Poi possiamo anche discutere su quanto effettivamente sia sicuro investire in prodotti italiani e di quanto sia sostenibile il bilancio italiano nel medio e di lungo periodo, di quanto sia reale o meno il rischio default del nostro paese. Tuttavia, per ora non ci sorfermeremo su questo dato, dato che non è proprio il tema di questo video. Proseguiamo ora con una lista dei punti positivi per quanto concerne i buoni fruttiferi. Come primo punto possiamo dire che è possibile ritirare prima il capitale della scadenza senza costi e commissioni. Quindi se dovessero servirci prima i nostri soldi, prima della scadenza, siamo tranquilli che possiamo ritirare tutto prima senza pagare costi o commissioni. Secondo punto, sono esenti dall'imposta di successione. Cioè, nel caso noi dovessimo forire i nostri eredi, non pagherebbero alcuna tassa nel ricevere in eredità questi strumenti. Un altro punto che potrebbe essere positivo, e dico potrebbe, dopo vediamo un attimino bene il perché, è il presso dei buoni fruttiferi non è influenzato dal movimento dei tassi, a differenza qua delle obbligazioni. Infatti, se noi decidiamo di ritirare prima della scadenza il nostro buono fruttifero, ci verrà semplicemente dato il controvalore che noi abbiamo investito. Questo, ad esempio, non avviene con le obbligazioni. Infatti, se noi portiamo a scadenza le obbligazioni, non abbiamo nessun problema. Ci viene consegnato il controvalore dell'obbligazione più gli eventuali interessi. Se tuttavia, però, decidiamo di ritirare prima la nostra obbligazione, beh, qui le cose cambiano. Infatti, come sappiamo bene, il prezzo delle obbligazioni si muove in maniera opposta rispetto al movimento dei tassi di interesse. Quindi, come è successo recentemente, se i tassi di interesse aumentano, il prezzo delle nostre obbligazioni per forza scende. E ovviamente, quando i tassi scendono, i prezzi delle nostre obbligazioni salgono. Avviene quindi il contrario. Quindi, capiamo che nel caso dovessimo vendere le nostre obbligazioni prima della scadenza, ripeto, solo prima della scadenza, possiamo avere questa, chiamiamola, problematica. Ovviamente dipende dal movimento dei tassi. Infatti, noi potremmo anche ritirare prima le nostre obbligazioni e magari guadagnare, nel caso, ad esempio, come detto precedentemente, i tassi dovessero scendere. Però, ecco, se non vogliamo tutto questo rischio, i buoni fruttiferi postali consentono di ritirare il proprio capitale in maniera anticipata, anche senza subire una perdita in conto capitale. Parliamo ora dei punti negativi, che pressoché è uno in particolare, ma è parecchio importante. A parità di rischio, perché se le obbligazioni che i buoni fruttiferi postali hanno lo stesso grado di rischio, infatti dietro c'è sempre lo Stato italiano, e a parità di tassazione, che ricordiamo è agevolata al 12,5% per entrambe, e a parità di orizzonte temporale di investimento, i buoni fruttiferi postali rendono molto meno. Per osservare però bene questo, andiamo proprio a prendere in visione un buono fruttifero. In questo caso prenderò il buono 4 anni, che potete trovare tranquillamente comunque sul sito di poste. Possiamo vedere che, nel giorno che sto girando questo video, la durata di questo buono è di 4 anni, con un tasso di interesse fisso del 2% lordo annuo. Lordo perché appunto ci dobbiamo pagare le tasse che abbiamo detto prima. Gli interessi sono calcolati sulla base di un anno, quindi su 365 giorni. Quindi per avere questo rendimento dobbiamo aspettare la fine dei 4 anni. Questo punto comunque non è indifferente. Infatti con le obbligazioni, ovviamente quelle che rilasciano cedole, l'interesse viene erogato circa una volta all'anno, diviso, solitamente, diviso in due circa ogni sei mesi. Quindi possiamo avere un flusso di cassa in maniera anticipata rispetto ai buoni fruttiferi postali. Ma andiamo a vedere i rendimenti di un'obbligazione governativa italiana con lo stesso orizzonte temporale. Vediamo infatti che attualmente un'obbligazione italiana paga il 3,2% lordo nei 4 anni. Quindi un rendimento nettamente maggiore rispetto ai buoni fruttiferi postali. Ripeto ancora una volta, con lo stesso grado di rischio e tassazione. Ma quindi vi starete chiedendo, ma perché allora si vendono così tanti buoni fruttiferi postali? Se effettivamente un'obbligazione governativa italiana normale rende di più con lo stesso grado di rischio? Allora penso che principalmente le forti vendite legate a questo strumento siano imputabili principalmente a due fattori. Il primo è la forte rete di vendita di questi strumenti. Infatti le poste sono un'istituzione molto famosa e soprattutto radicata profondamente nel territorio italiano. Infatti le persone quando hanno un gruzzoletto da investire, beh, cosa fanno molto spesso? Decidono di andare proprio in un ufficio postale oppure nella banca del proprio paese. Perché è vicino, perché è accessibile e magari conoscono anche qualcuno al loro interno, eccetera. Senza contare poi la forte pubblicità che possiamo trovare sui canali digitali, cartaccia, in televisione. Insomma sarà capitato a tutti prima o poi di vedere in giro una pubblicità che sponsorizzavano appunto proprio i buoni fruttiferi postali. Un altro punto che potrebbe spiegare bene le forti vendite è proprio la scarsa cultura finanziaria di base del nostro paese. L'Italia infatti rispetto al resto d'Europa ha una bassa cultura finanziaria di base. Infatti il bel paese, e qua dico purtroppo, si posiziona venticinquesima su ventisei nella classifica Oxe. Quindi siamo praticamente penultimi. Quindi diciamo che è più facile posizionare questi prodotti finanziari di bassa qualità nel mercato quando la controparte non ha un sufficiente livello di comprensione per comprendere a proprio pieno i rischi e i benefici di questi strumenti finanziari. Questo discorso ovviamente non vale solo per le poste ma anche per le banche, le assicurazioni che molto spesso, diciamo così, vendono prodotti finanziari anche qui di veramente bassa qualità. Quindi terminando dal mio punto di vista, i buoni fruttiferi non sono degli ottimi prodotti finanziari su cui investire dato le loro caratteristiche. Infatti non ho mai investito qui sopra e mai vorrò investire sui buoni fruttiferi postali. Comunque, se anche voi avete investito in questi prodotti finanziari e o volete un'analisi del portafoglio che vi ricordo è completamente gratuita, vi ricordo che potete contattarmi tranquillamente e ottenere una vostra analisi senza costi e che non vi vincola in nessun modo a me. Il video termina qui. Iscrivetevi al canale, mettete un mi piace al video se vi è piaciuto e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati su tutti gli ultimi video che usciranno. Un saluto a tutti e ciao! Ciao!